Anche la seconda settimana del Giro d'Italia si è conclusa senza sussulti, a dominare sono la noia, le fughe, le polemiche, tattiche e non proprio entusiasmanti. Così arriviamo al secondo giorno di riposo con Bruno Armirail in maglia rosa e ancora molti punti di domanda su cosa potrà accadere da qui a Roma. Ne parleremo in questa nuova puntata del Club del Fanta Cycling, con me ci sono ovviamente il primo tifoso di Benili, Fede, e l'uomo che è alla ricerca degli scalatori perduti, il Mullah. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, è veramente difficile parlare di quanto è successo al Giro perché fondamentalmente non è successo niente, nel senso che a parte le fughe, gli uomini di classifica si controllano moltissimo e lasciano spazio a uomini di secondo piano senza giocarsi poi i vari successi di tappa. Fede, questa seconda settimana ci ha regalato un grandissimo Nico Denz che ha vinto due tappe in fuga e per il resto, come abbiamo detto, tanta pioggia e soprattutto tanta noia. Ma ci ha regalato soprattutto il ritiro di Gioguenhardt che insieme a Evenepul forse era quello che aveva un po' più di brio, un po' più di così, cazzim come dicono a Napoli per rimanere in tema calcistico, nell'attaccare, nel provare qualcosa. È chiaro che avendo perso anche Gioguenhardt, oltre a Blasov e Evenepul, perdiamo un 30-40% degli uomini che potevano lottare per la maglia rosa. E probabilmente anche un po' di spettacolo abbiamo perso. Ma comunque, anche se abbiamo perso questi corridori, non è detto che ci fosse uno spettacolo così in più rispetto a quello che abbiamo visto, cioè poco o nulla. È un giro deludente dal punto di vista degli uomini di classifica, perché ricordiamo che sono passate 15 tappe e sono arrivate 9 fughe. Se togliamo le due cronometro e qualche volata, gli uomini di classifica si sono giocati la bellezza di 0 tappe, a parte le cronometro, vinte da Evenepul, che si è ritirato. Zero tappe. Sfido io a ricordare un giro che alla quindicesima tappa annovera tra i vincitori di tappa nessun uomo di classifica. È una cosa abbastanza triste, deludente e imbarazzante forse, da questo punto di vista. Senza nulla togliere i corridori che si impegnano, fanno fatica, tu tagli di tappe, poi quello ne parliamo dopo. Però il dato di fatto è che alla quindicesima tappa nessun uomo di classifica, escluso le cronometro di Evenepul, si è giocato una vittoria di tappa. O meglio, non si è giocato una vittoria di tappa. Non c'è minimamente stato l'interesse a giocarsi una vittoria di tappa. Che questa forse è la cosa peggiore, perché magari uno... Vabbè, gli uomini di classifica ci hanno provato, ma c'era una fuga di uomini forti, numerosi, non ce l'hanno fatta per una frazione di secondi. No, c'è mai stato l'interesse a vincere una tappa. Quindi, non c'è l'interesse a prendere la maglia rosa, anzi, diamo la via al prima possibile a chiunque. Quindi nessuna squadra vuole tenere la maglia rosa. Nessuna squadra dei leader vuole vincere le tappe. E quindi, ragazzi, è il giro d'Italia, non è il giro dei Paesi Bassi, se no davvero. Mullah è stato molto, molto duro. In una recente live, ha detto la sua, e il suo pensiero è stato condiviso da tantissimi dei nostri utenti. Mullah, se dovessi fare un riassunto di quanto hai detto, e se vuoi aggiungere qualcosa... No, no, non mi ripeto. Per quanto riguarda la maglia rosa, non la vuole nessuno, mi sembra ovvio. Cioè, degli uomini forti, tra virgolette. Vedremo quanto saranno forti. Perché le squadre non sono all'altezza, quello mi sembra ovvio. Perché il Roglic ha una squadra, tra l'altro è l'unica squadra che è ancora intera, però è una squadra sci e quindi probabilmente non si fida della squadra nell'essere capace di controllare la corsa. La Ineos, come a tante altre squadre, sono decimate e probabilmente molti corridori... Ma io ho sentito tante giustificazioni. Sempre, ogni giorno, a fine tappa, in ogni dichiarazione c'era una giustificazione perché le cose erano andate così. Perché non abbiamo attaccato, perché ogni giorno ce n'è una. Cioè, prima c'era il freddo e la pioggia, poi ieri è finito il freddo e la pioggia e c'era il percorso che non era adatto. Quando ci sono state le salite c'era il vento contrario. E questo mi ando a ridere perché questa è una novità. Insomma, ogni giorno c'è una giustificazione che mi sembra chiaramente non veritiera. Allora, sul percorso di ieri, tra le altre cose, abbiamo sentito le dichiarazioni che le salite erano lontane dal traguardo e sull'ultimo strappo di Bergamo Alta è esplosa un po' la corsa. Abbiamo sentito queste dichiarazioni. Allora, la tappa di Torino dell'anno scorso, a par forse l'ultima salitella, c'era sì tante salite nel percorso, però il frazionamento del gruppo è nato a diversi chilometri dall'arrivo. Mi pare una cinquantina, 40 se non sbaglio. Si è iniziato a fare la corsa dura. L'anno scorso, che lo ricordiamo per un giro non tirato fin dall'inizio, quindi non stiamo parlando del Giro d'Italia più bello della storia, ma la tappa di Torino esplose a diversi chilometri dal traguardo. Quindi questa tappa simil Lombardia ti dava la possibilità di fare un po' corsa dura, di provare a stuzzicare qualcuno degli uomini di classifica a chi avesse voluto attaccare. C'era il terreno. Se però la scusa è che l'ultima salita diciamo lunga e dura era a 35-30 chilometri dal traguardo, era troppo lontana, allora... Non è quello il punto. C'è sempre un motivo. In questo giro c'è sempre stato un motivo e quello è il problema, perché vuol dire che o non lo vuoi fare o non lo puoi fare perché non hai le gambe. Quindi io, insomma, tutta questa... Tatticismo. No, a parte tatticismo, sì, vabbè, tatticismo, questa non è tattica, questa è attesa e basta, no? Quindi stanno creando questa aspettativa sulla terza settimana, no? Perché hanno detto che la terza settimana è talmente dura che tutti stanno risparmiando energie, eccetera. Ora, vedremo, perché poi a quel punto lì, cioè, ora nella terza settimana non si scappa più. A questo punto vedremo se erano tutte scuse oppure davvero hanno deciso di giocarsi tutto nei tre, quattro tappe, compresa la crono scalata finale. Ora, a questo punto le scuse... Ora non ci sono più scuse. Quali possono essere? Il caldo? Non lo so. Non lo so. Non riesco più a immaginarmi nessuna scusa possibile. La fatica. Sì, ma la fatica hai aspettato tutto. Fatica è più che altro il freddo e il progetto. Per ora non hai fatto nulla come uomo di classifica. Quindi, ora, poi tutti su questa terza settimana, tutti su questa terza settimana, vediamo, vediamo. Ora, ci aspetta la più grande terza settimana della storia del Giro d'Italia, a quanto pare. A quanto pare io, guarda, sono contentissimo perché ora ho sofferto fino ad ora e ora mi aspetto le grandi imprese sulle salite della terza settimana. Mi metto... Diciamo, Lore, un dato indicativo e poi ti lancio la palla, sarebbe vedere, e poi lo vedremo successivamente la fanta classifica, la fanta statistica, dei corridori che hanno fatto più punti al fantasaking. Perché, come diciamo sempre, il fantasaking non è che rispecchia la realtà precisa di una corsa, però dà tante informazioni statistiche, perché quei corridori che sono davanti e hanno realizzato più punti spiegano un po' l'andamento della gara, no, Lore? Assolutamente sì. Tra l'altro, io ricordo che è andato a casa un altro protagonista della corsa, Mats Pedersen, che stava lottando per la maglia ciclamino, una maglia ciclamino che è sempre più sulle spalle di Jonathan Milan, a cui, a mio avviso, basterà arrivare a Roma per indossarla definitivamente e vincere a sorpresa questa classifica, perché nessuno aveva indicato Jonathan Milan come favorito. E allora togliamoci questo sfizio, andiamo a vedere, Fede, i campioni, comunque i corridori, mettiamola così, che hanno ottenuto più punti finora al fantasaking al Giro d'Italia e ci sono diverse sorprese. Allora, tenetevi pronti, reggetevi alla seggiola o alla sedia o al divano, dovunque siete seduti. Allora, Jonathan Milan, a proposito di Jonathan Milan, appunto, è il primo in questa classifica ad oggi, dopo 15 tappe, quindi due settimane e passa, concluse, 610 punti, che sono tantissimi, ma per Jonathan Milan ne farà di più di qui alla fine, chiaramente si porterà a casa una maglia. 610 punti è primo. Poi abbiamo, seconda posizione, Derek G, con 499 punti. E questo è tutto un dire, G è uno che ha fatto diversi piazzamenti, tanti chilometri in fuga, ma si chiama Derek G, cioè siamo alla quindicesima tappa. Va bene, e consideriamo che quest'anno, come l'anno scorso, sono stati molto ridimensionati i punti fuga, quindi magari uno può dire, lui è andato sempre in fuga e ci sono tanti punti per le fughe. Ni, perché sono stati ridimensionati, le fughe ora contano, ma non così tanto. Pedersen, ritirato, è sempre terzo con 481 punti. Quarto, Tom Skewins, altro fugaiolo, 479. Quinto, c'è sempre Venepur, con 461 e Venepur si è già ritirato ormai da una settimana, quindi è sempre lì in quinta posizione. Sesto, Davide Weiss, 352 punti. Vincitore sul Gran Sasso. Sì, portatore della maglia Com, ora ha un altro contendente, oltre al rubio si è fatto avanti anche i Benili, per la maglia blu vedremo. Settimo, Caden Groves, anche lui ritirato, 350 punti. Ottavo, Benili, 350, come Groves. Nono, Nico Denz, 334. Chiude la top ten albanese con 333 punti. Il primo, degli uomini cosiddetti, come ha detto un cronista di una televisione nazionale, il primo dei big, se così si possono chiamare, è undicesimo, Garen Thomas con 320 punti. Cioè, alla quindicesima tappa abbiamo Garen Thomas con 320 punti. Il primo uomo da classifica che troviamo in questa top ten. ha fatto praticamente, se non ricordo male, tutti i punti, o quasi, nelle cronometro. Eh, più o meno sì. Nella tappa cronometro. Più o meno sì. Poi, cioè, diventa difficile fare tanti punti a questo punto, cioè a questo punto della corsa, perché anche, cioè, ci saranno i punti della classifica per chi reggerà, però arriveranno altri fugi anche in montagna, eh. Cioè, mettetevelo in testa, perché questo mi sembra evidente. Il rischio, cioè... E andiamo a vedere, prima di andare, a dare un'occhiata anche alla classifica attuale in campionato del Pantasycling per quanto riguarda il giro, alla classifica invece generale. Quindi abbiamo detto del sorprendente Bruno Armirai, che ha azzeccato la fuga a bidone e maglia rosa ancora, 1,08 su Geraint Thomas, 1,10 su Primoz Roglic, 1,30 su Joao Almeida, Andreas Lechnesson è ancora a quinto, a 1,50, Damiano Caruso 2,36, Lennar Kemna 3,02, Eddie Dunbar a 3,40, Timen Aresman a 3,55, chiude la top 10 a Laurent De Plus a 4,18. Le altre maglie, abbiamo detto, di Jonathan Milan, nettamente al comando della maglia della classifica, della maglia Ciclamino. La maglia invece Com, quindi quella azzurra dedicata agli scalatori, Davide Baist davanti a Rubio e Thibaut Pinot. E poi la maglia dei giovani sulle spalle di Joao Almeida, sull'Ecknesson Aresman. Fede, possiamo vedere allora chi in questo momento è il più bravo in campionato? Allora, il più bravo è Team Sicily, con 3.303 punti su Ice Luke Team, 3.273 e 56. centimetri, 32.268 punti. La formazione che per ora è in testa, andiamola a analizzare. Evenepul, Primoz Roglic e Thomas. Almeida, Gunn, Ili, Pedersen, Groves e Milan. Cioè, comunque questa formazione ha già quattro defezioni, Gunn, Evenepul, Pedersen e Groves, e quindi gli rimane solo uno, due, tre, quattro, cinque corridori. Per ora è in primo, secondo me sarà duro, eh, perché cinque corridori, no, mai dire mai. Con Milan diciamo che ha fatto la differenza, è uno dei pochi che lo ha preso. Sì, Milan non ce l'hanno in tanti, quindi è un grande acquisto. Ricordando poi che il primo in campionato otterrà una maglia autografata di Joao Almeida, e quindi un bel regalo per il vincitore, dobbiamo parlare di questa fatidica terza settimana così attesa. Si parte dopo il giorno di riposo, quindi domani, con la tappa che arriva sul Monte Bondone, poi ci sono, posso immaginare, due volate sicure, o quasi, quella di Caorle e quella di Roma, la cronoscalata sabato del Monte Lussari, e poi ancora due tappe, quella con arrivo a Val di Zoldo, e soprattutto il tappone di venerdì, quello delle tre cime di Lavaredo, in cui si dovrebbero scalare Campolongo, Valparola, Giau, Tre Croci, e l'arrivo appunto sulle tre cime, dove tra l'altro ci sarà Fede, con il giro E, e quindi potrete conoscere Fede, fare selfie, autografi con lui. Se verranno fatte tutte andrò in pellegrinaggio da qualche parte, intanto non rischio nulla. Allora, il tempo dovrebbe migliorare, le previsioni sono nettamente migliori rispetto a queste prime due settimane, e vi chiedo a entrambi che cosa potrebbe succedere, o che cosa non succederà, non lo so. Allora, le tappe più belle sono quelle del Bondone e la tappa delle tre cime. La tappa delle tre cime è la classica tappa alpina, della delle Dolomiti, che tutti gli anni si ripresenta, un po' quando si arriva sulla marmolada, un po' sulle tre cime, quei quattro passi più o meno si fanno, tutti gli anni si cerca di inserirla a quella tappa e va bene, giusto così ci sta, e è la tappa un po' che caratterizza il Giro d'Italia insieme a quella a Stelvio Mortirolo di qualche anno va. Quindi, bella, speriamo si faccia tutta, e lì sicuramente qualcosa accadrà, anche perché l'anno scorso il giro si è deciso su una tappa simile, con la marmolada, col passo fedaia, quindi tre cime o passo fedaia, siamo lì, la tappa è simile, quindi è chiaro che probabilmente i chilometri decisivi di questo Giro d'Italia saranno sulle tre cime, però poi il giorno dopo c'è anche la cronometro del Lussari, Lussari o come dir si voglia. Lussari. Lussari. Quindi lì probabilmente ci sarà un altro step successivo per la vittoria della Maglia Rosa. e probabilmente, e questo così lancio una frecciatina al mullà, visto che ci sono queste penultime tappe, le tre cime e Lussari, penso e temo che la Val di Zoldo e il Bondone non siano tappe che sulla carta sono tappe molto interessanti, due arrivi in salita, ma ho paura che succeda poco, perché il Bondone arriva dopo la giornata di riposo e se c'è qualcosa è perché qualcuno le ha dato noia al giorno di riposo, come sempre capita, no? Cioè la tappa tosta dopo il giorno di riposo miete vittime, ma non tanto perché ci saranno attacchi, perché qualcuno secondo me va in crisi così un po' da solo. Questo sarà, dal mio punto di vista, cosa succede sul Bondone. Val di Zoldo, col fatto che c'è quella discesina prima dell'arrivo, ci sarà la scusa per attaccare solo sull'ultima rampettina e quindi non succederà poco o nulla. Quindi questa è la mia paura. Siccome avevo paura che ieri a Bergamo non succedesse nulla, infatti è stato così, ho anche quest'altre due paure per queste due tappe che ho detto prima, rimandando tutto alle tre cime e all'ussari. Non so al Mullah come la vede. Io non la vedo benissimo. A parte che non abbiamo tanto materiale per dare un giudizio, anzi praticamente pochissimo, perché a parte la tappa in cui Roglic fece un po' di differenza, poi non è successo nient'altro, quindi è un po' un'incognita. Io sinceramente il materiale che abbiamo a disposizione sembra inquietante questa cosa, però è vero, no? Il materiale che abbiamo a disposizione è la tappa di ieri nello scatto che è stato fatto, nell'accelerazione che è stata fatta sullo strappo di Bergamo, che è brevissimo, non è certo una salita, però io ho visto la maggior parte dei corridori perdere subito contatto. Vabbè, se consideriamo Camna un corridore da classifica, non ci aspettiamo niente, perché Camna non è un corridore da classifica. E allora Camna a questo punto, cioè, intanto possiamo dire che potrebbe essere anche il primo fallimento totale a livello di Fantasy Hiking, perché non ha fatto un punto e se lunedì prende la batosta, lui esce completamente dal giro, non farà più niente, neanche le fughe. Cioè, quindi ci sono... Magari potrebbe rientrare nella tappa... Troppo tardi, secondo me, ormai. Troppo tardi. Però Camna è stato messo come capitano per l'occorrenza di non aver più Blasov e quindi è stato passato da vicecapitano e è stato messo capitano, però Camna ad oggi non ha mai dimostrato di poter fare classifica in un giro da tre settimane. Questa è la verità. Quindi è lì perché ancora nessuno ha acceso la miccia. Come per dire l'effetto. Poteva farla in un'altra maniera classifica. Uscire un po', andare a 6-7 minuti e poi fare come ad esempio Rubio che è già diversi giorni che va in fuga e non è uno scalatore eccezionale, però è rientrato nella top 15, no? Con queste fughe. Quindi Camna poteva fare un percorso simile e faceva la gioia dei fantallenatori, tra le altre cose. Invece ora ha fatto la disgrazia perché ha fatto 50 punti e poi probabilmente uscirà di classifica e quindi farà... La differenza, Rubio ad esempio ha fatto quasi 300 punti a questo giro d'Italia da un corridore che non ci si aspettava niente e oltretutto rientrerà anche in classifica generale qualche punto lo farà non nella generale e magari siccome mi sembra che stia lottando per la maglia com potrebbe anche fare 300-400 punti alla fine di questo giro non è fuori. Camna ad esempio era uno che era overquotato perché o classifica o fughe e per ora non ha fatto niente ad esempio è in una posizione tale che non gli consentono ancora nulla. Quindi l'alternativa per fare punti è o rimanere lì ma non ha le quali per stanne 5 è evidente oppure prenderla secca appena si rinizia il giro martedì e sperare in qualche fuga. Per fare... Io parlo a livello di fantasizing. Comunque io non vedo per concludere io non vedo nessuno nettamente superiore in grado di fare la differenza grossa secondo me quelli primi 4-5 ci metto anche comunque Almeida Caruso insieme a Thomas e Roglic sono più o meno sono sullo stesso livello Roglic forse qualcosa ma anche lui vediamo non vedo non vedo un dominatore fra questi quindi potrebbero rimanere lì e poi giocarsi tutto a Clonovic ecco magari ecco dell'unica squadra a cui mi aspetterei qualcosa è la Bahrain perché va bene che ha Caruso lì però ha Jack Hage che a parte che non va è anche caduto male e poi c'è anche Buitrago ecco però anche se non sono due fenomeni però cioè sarebbero due carte che dovrebbero giocarsi non le puoi tenere lì anche loro perché altrimenti diventa io ho la sensazione che loro due Buitrago e Hague non vanno per un motivo o per un altro cadute o malanni vari non lo so ma Buitrago e Hague non mi danno nessuna sicurezza che anche se vanno in fuga non porteranno nessun aiuto va bene va bene va ci però poi lo vediamo però non ci vanno perché vogliono un dodicesimo posto un diciassettesimo posto no nel senso che c'è l'unica è la Bahrain che vedo l'unica è la Bahrain comunque che ha un collettivo da poter provare qualcosa il problema è che forse vedo Damiano il più debole di quei quattro se togliamo l'Ecnesud non lo so non lo so io lo vedo un gradino sotto Almeida Roglic e Thomas a livello di gamba poi magari speriamo speriamo ci sorprenda secondo me se la giocano loro quattro e quello che si inserisce ma rimane nelle retrovie sarà Dunbar per quello che si è visto fino ad oggi l'Ecnesud e Camna per me retrocedono di posizione faranno anche top ten perché questo giro ormai questo è sì ma l'Ecnesud retrocede cioè è chi subentra io dietro non vedo niente ragazzi sinceramente secondo me l'Ecnesud può anche rimanere tranquillamente più o meno intorno a quelle posizioni non vedo non vedo chi da dietro a meno di una fuga o qualcosa possa vada meglio nessuno va meglio di lei oggi ragazzi l'Ecnesud c'era ieri cioè c'era quando hanno fatto la scelta lui c'era davanti mancavano altri mancavano carti Pinot cioè Camna Camna cioè mancavano altri D'Ambar e l'Ecnesud hanno risposto presente però è chiaro che ieri è stata fatta una tappa tranquilla con una accelerata di 500 metri siamo sempre ai soliti cioè non è questa accelerata che vede se uno ha un motore secondo me quando è in una corsa tappa quando vai vai dappertutto sì è vero quando non vai non vai da nessuna parte aspettiamo comunque le tre tappe sperando di farle tutte con altimetria e chilometraggio di un certo livello vediamo se l'Ecnesud che ancora non ha dimostrato niente ma lo stesso D'Ambar e Camna sulle tre settimane soprattutto sull'ultima settimana vediamo chi di questi tre quattro corridori un po' outsider rimarrà in quella top 5 o top 7 diciamo del Giro d'Italia qualcuno ci rimarrà di questi è chiaro che ancora più del ritiro di Venepo quello di Gjogan Hart ha influito parecchio su questo giro perché lui poteva essere veramente l'arma in più della Ineos per attaccare ma anche Vlasov perché comunque avrebbe liberato Camna da un tipo di gara solo che Vlasov secondo me non andava bene già da prima invece Tao secondo me aveva proprio una condizione forse migliore di tutti però ormai è andata purtroppo lo rivedremo il prossimo anno con l'infortunità e speriamo che si riprenda bene perché sai premesse non proprio entusiasmanti per le prossime tappe però ci auguriamo che qualcosa succeda e che si muova qualcosa ma fermo fermo non ci auguriamo che succeda qualcosa perché quando abbiamo detto che si è sempre cascato qualcuno si è ritirato qualcun altro cioè non vogliamo che succeda qualcosa vogliamo vedere qualcosa in salita qualcosa di buono non che succeda qualcosa diciamo vorremmo vedere un po' più di coraggio da determinati corridori che comunque possono fare la storia di loro e del Giro d'Italia senza limitarsi a andare tutti in carrozza fino a 500 metri all'arrivo e poi fare la volatina va bene cosa che a Roglic potrebbe anche andare bene cosa che a Roglic infatti la mia paura è quella che a Roglic può andare bene quello e però attenzione Roglic può andare bene quello ma a fare le volatine e arrivare all'ultima crono con una manciata di secondi anche se poi qualche anno fa Altura aveva più di un minuto quindi nemmeno una manciata di secondi ce l'ha presa ci ha battuto la testa quindi se fossi Roglic io metterei parecchi secondi prima dell'ultima crono se ne avessi le possibilità e quindi automaticamente diventerebbe un giro un po' più frizzante nell'ultima etapa quello speriamo a prescindere da Roglic Thomas Pinot Almeida o a Caruso chi che sia comunque l'importante è che ci sia un momento perché anche l'anno scorso a parte la tappa di Torino poi non era successo un granché e poi però comunque l'attacco di Indri non lo so è detto in un senso no? poi al giro un momento che poi pulisce tutti i peccati no? e quindi si dimentichi tutto e poi quindi speriamo che magari sarà la crono finale che vi devo dire la crono scalata finale cioè l'importante è che ci sia capito? in questo momento in cui si rivaluta un po' tutto poi ti dimentichi di tutte le cose brutte e vivi una giornata l'anno scorso si dava colpa a Indri che non attaccasse mai in maniera decisa Carapaz però poi alla fine è bastato un attacco per vincere Giovitale e quindi lì ha avuto ragione lui come per dire ho attaccato poco o nulla ma perché volevo fare questo fatto bene e sapevo di vincere tanto di cappello vediamo se quest'anno chi attende chi attende chi attende alla fine poi avrà ragione speriamo ragazzi davvero noi non molliamo saremo live tutte le sere a parte ovviamente questa sera giorno di riposo su YouTube e Twitch quindi continuate a seguirci con ospiti e tanti argomenti di discussione polemiche soprattutto grazie a Fede grazie a Mulla ciao a tutti arrivederci ciao 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 ciao